Voglio fare gli auguri di Buon Natale a tutti quanti, ai nostri tifosi, alla società, a tutti quelli che ci guardano, con gli auguri veramente di un Buon Natale e un felice anno nuovo, visto che molti ci guardano e sono credenti, con la speranza che quando ci alziamo pensiamo grazie Signore che è un nuovo giorno e si dà la possibilità di mettere a prova la nostra fede. Grazie. Buon Natale a tutti.